Quando vedo certe scene, quando vedo certe persone che parlano del passato come se puoi, io sincero, una volta si stava meglio, una volta si rimpiangono quegli anni, ma come si fa a rimpiangere quegli anni? Ma non c'eravate, e se c'eravate se rimpiangete siete carogne, ma non potete rimpiangere quei giorni, quegli anni. C'era gente di vent'anni che non aveva, non erano degli apolitici, io potrei citare degli esempi dei miei vicini di casa, vent'anni, che non erano né a destra né a sinistra, che li prendevano, li mandavano nei fronti in Russia, sono morti in mezzo alla neve, sono andati nei massi, c'aveva un vicino di casa, figlio unico, la mamma che l'adorava, vent'anni preso, buttato su un sommergibile, la prima missione, andato in fondo al mare. La mamma è morta di dolore, pensando non solo che era morto, ma come è morto, come si muore in un sommergibile, giù a 200, 300 metri, 1000 metri di profondità, se non muori subito, che morte fai? Un figlio che muore da 20 anni, ma scherziamo, e queste cose non se ne parla, per non parlare di quelli che sono morti sotto 3, 4 metri di meve in Russia, o in Africa, nei deserti, migliaia e migliaia di morti, famiglie rovinate, esterminate, adesso di queste cose non se ne parla, adesso si dice, ma si stava meglio allora, ma cosa si stava meglio? Ma 20 anni di fascismo hanno creato, noi ne soffriremo ancora per 100 anni dei 20 anni di fascismo, perché noi avremmo avuto 20 anni di democrazia, forse saremmo maturati meglio, invece i 20 anni di dittatura ci hanno bloccato, 20 anni più, poi i danni che ne sono conseguiti, dopo la guerra che sono durate ancora 10 anni, la ripresa, la ricostruzione, sacrifici, rinunce, lotte, ma c'è ancora gente che pensa che quel periodo sia stato poi, in ultima analisi, un periodo migliore di questo, che questo non sia un bel periodo lo sappiamo, lo vediamo, ma perché è stato conseguenza della mancanza di 30 anni di dittatura, è inutile che stiamo lì a dirlo.